Partiamo da dove eravamo rimasti e cosa è rimasto? Dalla corsa verso le finali regionali Under 17 della scorsa primavera al passaggio dei classi 2005 della Meridiana, la terza categoria Juniores che mette di fronte a scenari di maturità questi Under 19 appena ritoccati nell'organico. Rispetto al passato, nuovo corso tecnico Alessandro Di Emanuele alla guida dei ragazzi Maglia Rossa e proprio da ex torna al San Gaetano Nuccio Marino per affrontare il bel passo quando il calendario indica la giornata 2 del girone B. C'è Giuseppe Mazzeo tra i pali con Salvo Signorelli e Samuel Nicotra sugli esterni di difesa Lorenzo Spindicchia e Giuseppe Cavallaro in mezzo a centrocampo Simona Aiello, Giuseppe Cangeri e Angelo Sapienza di punta Adam Allam affiancato da Tipo Di Garzia e Caede Arcifa. Capitano con quella fascia che per molto tempo è stata di Gianluca Navarra a breve pronto a fornire importante contributo alla squadra dopo lungo infortunio in panchina con Sebastiano Barbagallo, Manuel e Michele Mirabella Mario Tolentino, Rosario Sinatra, Antonio Barchitta e Damiano Cardillo. Tutto agevoli nel mande-vecce d'esordio al Seminara 9-0 alla Leo Soccer caratterizzato dalle doppiette di Cavallaro, Arcifa Sapienza e dalle reti di Aiello, Nicotra e Adam. Non sarà così a bel passo contro un FC che vanta diversi convocati in promozione nell'orbita della capolista ma almeno in avvio sembra non esserci storia come in effetti sarà sul piano caratteriale tecnico che però non combacerà col finale e con una vittoria striminzita di marca catanese. Garzia si conquista e prova a trasformare girando una punizione del limite che sfiora il palo Aiello cerca sul secondo montante Arcifa che tocca palla appena fuori dalla linea. Al diciottesimo calcio d'angolo di Nicotra in piena area ci mette la sponda Sapienza Aiello si fa trovare pronto a mettere dentro lo 0-1 e realizzare così il secondo gol in campionato che premia un quarto d'ora di superiorità e di voglia di fare la partita da parte di una meridiana che in difesa non rischia niente e lascia Mazzeo inoperoso per molti minuti raddoppiando, se è il caso, anche le marcature. Qui Sapienza e Nicotra dà applausi in chiusura. Al ventitresimo il raddoppio, corner di Aiello, tacco di Sapienza sul primo palo dove Adam ci mette la prolunga e Caeder Cifa fa 0-2, due metri più in là tap in, vincente e più che rassicurante bis a metà tempo con la consapevolezza però di non cullarsi mai. La meridiana non ha dimenticato quella bruciante sconfitta per 2-1 proprio su questo campo con tanto di polemiche arbitrali alcuni mesi fa quando era campionato under 17. Ancora Sapienza, magistrale nell'interdizione e nei suggerimenti corre Garzia verso la porta ma Val Guarnera compie il miracolo del lunedì. Giusto poi l'offside alla mezz'ora segnalato su Adam servito su punizione da Arcifa. Sul secondo mancino da corner di Nicotra si catapultano in corsa Arcifa e Cavallaro sotto porta ma è quest'ultimo a non centrare lo specchio mentre lo strappo o quasi al pantaloncino del capitano catanese valgono una punizione che impegna la spina al minuto 40. In una delle due proposizioni biancazzurre di casa di tutto il primo tempo e con la beffa al 44esimo mischia furibonda a seguito di calcio d'angolo il bel passo vede premiata l'insistenza e Messina dopo traversa piena ribadisce in rete il pallone dell'1-2 riaprendo ufficialmente i giochi. Così la meridiana deve attendere un quarto d'ora negli sfogliatoi per liberare la rabbia carica di un KO ingeneroso e ricomincia da Spinnicchia, Sapienza e Arcifa che ci prova dalla distanza senza risultati per poi allargare sul Nicotra che crossa dalle parti di Adam volè non riuscita in pieno. Di Emanuele al primo cambio e l'ora esatta di gioco dentro Emanuele Mirabella fuori Cangeri cambia qualcosa in mezzo al campo non il tema della partita e soprattutto l'allungo a 20 minuti dal minimo scarto Signorelli per Arcifa che lancia Aiello posizione regolarissima e palla dentro per l'1-3 doppietta di Simone Aiello terzo gol stagionale e conti ristabiliti in maniera assolutamente meritata al minuto 19 Altra tappa ai box lo storico dirigente della meridiana Gianni Trombetta accompagna l'ingresso in campo Barbagallo fuori Signorelli quando corre il settantesimo e poi dentro alla settantacinquesimo Michele Mirabella che a centrocampo scarica su Sapienza profondità su Spindicchia che in mezzo trova solo la presa alta di La Spina del bel passo segnaliamo un solo pericolo in mezz'ora sugli sviluppi di palla inattiva mentre dettono i tempi sulla tre quarti Sapienza e Adam Garcia da dimenticare nella conclusione con il destro poi opportunità per il primo gol in campionato di 99 Mirabella servito da Nicotra ma in corsa non arriva il 4-2 con un bel po' di rammarico lasciano Arcife e Garcia 10 dalla fine dentro Tolentino e Sinatra che subito si cercano in questa manovra per poi trovare Sapienza il destro potente si perde di poco alto sopra la traversa e spuma ancora una volta il poker il gol della sicurezza e allora attenzione al finale incandescente sull'altro fronte altra innesima palla inattiva del bel passo Ferone comodamente realizza il 2-3 a pochissimi metri dalla porta quando mancano 4 minuti alla fine e clamorosamente si riapre tutto al sanguetano perché i biancazzurri mettono in soggezione gli avversari e accarezzano il sogno dell'impresa Amato va alto al volo e poi calcia debolmente su Mazzeo con Barbacallo che cerca di stocolare in tutti i modi il tiro mentre Ferone esalta i riflessi del portiere ospite in diagonale a mezza altezza al secondo e più serio intervento di tutta la partita il portiere della Meridiana che salva il risultato e la vittoria insomma come complicarsi la vita con un successo praticamente in pugno per la Meridiana l'esultanza finale saldi liberazione 3-2 al Belpasso in campo esterno seconda vittoria consecutiva che introduce alla terza sfida del lunedì gara sentitissima delle ore 17 al Seminara con il Real Catania il 7 novembre quando abbiamo subito il secondo gol sono presi di coraggio e hanno spinto molto verso la fase offensiva però noi siamo stati bravi a difendere e proteggere il risultato una differenza tecnica che poi nell'arco dei 90 minuti è inersa sì molto perché è stata una battaglia come si vuol dire però bravo a tutti delle squadre io sempre al meglio forse un po' nel secondo tempo sono calato perché un po' le gambe mi hanno richiamato però grazie ai cambi del mister abbiamo ottenuto il risultato e abbiamo vinto sì due gol presi ci alleneremo per migliorare in questa fase ma sicuramente nelle prossime partite dimostreremo di meglio forse se c'è da trovare un difetto o poca incisività nelle palle da fermo nel gioco da palle da fermo soprattutto nei calci d'angolo sì abbiamo peccato lì purtroppo infatti i due gol sono venuti da lì infatti questo sicuramente il mister l'avrà notato e negli allenamenti riguarderemo questo e molto altro